Così è riuscito a metterci i bastoni tra le ruote. Bravo, le faccio i miei complimenti. Però, lei si sbaglia. Sì, si sbaglia, commissario. Io non ho affatto perso, e vuole sapere perché? Perché quelli che comandano e decidono davvero sono con me. Quel treno era solo il primo di una lunga serie. Altri ne verranno, perché tutto il mondo è d'accordo. Tutto il mondo! Questo affare è necessario ai governi di molti paesi. E noi lo faremo, chi a lei piaccia o no. Noi chi? Noi, che comandiamo. Noi che stiamo al di sopra di tutto, perfino al di sopra di quella legge con la L maiuscola di cui lei è un così strenuo paladino.